vi consiglio Xcode perché è completamente gratuito per gli utenti Mac ed è l'ambiente di sviluppo di riferimento per il mondo Mac e al suo interno, oltre a sviluppare per tutti i compilatori oppure altri compilatori qui ti ho inserito un link al sito blog edwinx.com Top10IDC e C++ Developers dove hai la possibilità di vedere tutta una serie di compilatori che potresti utilizzare Top10IDC e C++ Developers dove hai la possibilità di vedere tutta una serie di compilatori che potresti utilizzare in alternativa a quelli che ti propongo in questo corso come Visual Studio Code piuttosto che C++ Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e inserire un titolo per il progetto quindi ad esempio Hello World come titolo Fatta questa operazione clicca poi il pulsante Next A questo punto ti devi sincerare di avere lo stesso compilatore che hai settato come compilatore di default quindi nel mio caso NewGCC Compiler quindi nel tuo caso potrebbe essere questo oppure quello che hai settato come default se ne hai più di uno puoi scegliere che compilatore utilizzare e quindi lasciare poi spuntate queste opzioni e tutte le altre opzioni così come sono e cliccare sul pulsante Finish a questo punto quindi ti troverai nell'area Project con il Workspace Hello World Grazie a tutti